buonasera a tutti in questo video mancherò con voi per la prima volta voglio provare i biscotti tanto famosi nutella biscuit voglio andare a vedere dicono che sono molto buoni voglio vedere insieme a voi adesso riapriamo un attimo vediamo un po sono così chi non li ha visti buoni sono buoni però mi aspettavo una cosa diversa c'è nel senso ancora più buoni una semplice cioccolata nutella molto buona però dopo aver finito questo biscotto devo spogarmi un po che vedrete tra un attimo quando sarò quando sarà finito mi viene già da ridere si è pigiato tre euro si è preso tre si è preso tre euro e non sapevo manco manco quello che deve essere sono delusa sono pigiato sulle sorde tre euro con questo vi saluto ciao ciao